Era rimasto inattivo per diverso tempo e da qualche giorno è stato riattivato causando paradossalmente disagi alla circolazione. Stiamo parlando del semaforo posto all'incrocio di via Biceglie con via Mozart e via Milite Gnoto ad Andria, una strada ad alta percorrenza e particolarmente trafficata. Diverse le segnalazioni giunte presso la nostra redazione che denunciano un funzionamento anomalo o quantomeno poco utile per la viabilità. Sono infatti solo 10 i secondi di verde per i veicoli che arrivano da via Mozart e via Milite Gnoto, al contrario della luce rossa che dura decisamente molto di più. E' chiaro che la luce verde per chi transita in via Biceglie debba durare più tempo essendo una strada ad alta viabilità e con maggior traffico, tuttavia non si spiega il troppo poco tempo destinato per le altre due vie. Quando scatta il verde, spiegano i cittadini, passano a malapena tre o quattro macchine alla volta e bisogna affrettarsi non poco. E ancora, il tempo è insufficiente per smaltire la coda di macchine in caso di traffico, oppure si stava meglio senza semaforo. Il disagio è di chi vive nella zona, ma anche per altri cittadini che necessitano di transitare per le strade limitrofe di via Biceglie. Per quanto possa essere corretta la durata maggiore del verde per la strada ad alta viabilità, non ci si spiega perché debba durare così poco per chi arriva da via Mozart e via Milite Gnoto.